buongiorno mentre stavamo realizzando un altro video dedicato sempre alla città di popoli siamo passati davanti la stazione ferroviaria di popoli e bruno mi ha detto ci dobbiamo assolutamente fermare perché devo parlare di qualcosa di importante allora signori come vedete ci troviamo dentro la stazione ferroviaria di popoli e voglio fare un po di storia della ferrovia e anche dei treni allora il primo treno è stato inventato da george stevenson nel 1825 chiaramente in italia il primo treno che ha fatto la tratta napoli portici e del 1839 noi invece oggi ci troviamo alla stazione di popoli dove qui il primo treno è passato il primo marzo del 1873 la tratta tra pescara e sul mona chiaramente all'epoca i treni erano a vapore dietro le mie spalle c'era un caseggiato abitato dal signor petrella che aveva un tubo di acqua perché i treni andando a vapore dovevano generare vapore quindi avevano bisogno di acqua e di carbone per poter camminare oggi come potete vedere è tutto cambiato la stazione ha la sua pensilina che prima non aveva adesso per legge è stato fatto un sottopasso che va esattamente all'altro binario il tubo che alimentava l'acqua è stato è stato tolto e quindi l'hanno adoperato per portare l'acqua al cimitero e quindi vi ribadisco ancora una volta che attualmente l'acqua che va al cimitero è un'acqua potabile quindi pertanto come vedete questa è la stazione di popoli vi dirò ancora altre cose che per esempio i passaggi a livelli stanno per essere del tutto eliminati eliminati proprio per consentire quindi meno pericoli e consentire con i sottopassi per arrivare a destinazione senza dover passare i binari con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video buongiorno grazie bruno per averci parlato di un evento che comunque segna la storia anche di popoli perché è un avvenimento importante il treno è stata un'invenzione straordinaria nella storia e ha toccato anche la città di popoli grazie bruno quindi appuntamento ai prossimi video ciao ciao ciao